ciao a tutti da oggi parte momenti un ciclo di interviste a persone amiche non con cui mi confronterò e che si racconteranno attraverso i loro hobby e le loro passioni ho scelto questo format perché mi sembra il modo migliore per comunicare quelli che sono i due grandi e forse utopici obiettivi che in momenti si pone ovvero diffondere l'idea secondo cui il benessere psicologico si alimenta dando voce alle proprie passioni e alle proprie aspirazioni e quello di stimolare chi guarda a riscoprire la bellezza sia dell'incontro con l'altro che della sana curiosità capita spesso infatti di riuscire a scoprire cose nuove su noi stessi e sul mondo che ci circonda proprio grazie al confronto con l'altro questi semplici incontri si trasformano così in momenti capaci di emergere con forza dal caos quotidiano e diventare delle piccole isole in cui poter staccare totalmente dal lavoro stress e routine per viaggiare alla scoperta di nuove prospettive e nuovi modi di conoscere e di conoscersi quale modo migliore allora per condividere la bellezza di questi momenti se non quello di diffonderli sul web eccomi quindi per la prima volta davanti a una webcam con la speranza che questo esperimento psicoculturale possa essere utile anche a voi così come lo sarà per me detto questo buona visione e siate curiosi